Proprio nel pieno della ripresa del nostro territorio dalla pandemia arriva una doccia fredda nuovamente da Vallo della Lucania. Tra i 255 tamponi analizzati ieri dal laboratorio dell'ospedale di Eboli, ne è risultato uno solo positivo, appartenente proprio ad un cittadino del centrovallese. Le ultime vicende del Cilento riguardanti il Covid-19 provenivano proprio da Vallo della Lucania, precisamente dall'ospedale San Luca, dove qualche settimana fa era scattato l'allarme nel reparto di medicina generale, poi terminato con solo il contagio dell'infermiera napoletana e residente a Casalvelino, che non ne ha scaturiti ulteriori. Quinto caso per Vallo della Lucania dall'inizio dell'emergenza e ora cinque anche i casi ancora attivi nel Cilento, oltre questo già citato tre ad Agropoli e uno a Casalvelino.